Salve a tutti youtubers, benvenuti al suo canale, sono Zammarita, andiamo avanti con Space Hulk ragazzi Mamma mia quanti siamo tuoi ragazzi Uno è fuori eh, come se E tra un po' saremo anche noi Sì, bene, bene Sì, bene Sì, bene Sì, abbiamo visto un po' dietro E' una cosa che ti stai cittano Oh, è una cosa che non sta E' un po' di mezzo E' un po' di mezzo E' una cosa che si chiara E' un po' di mezzo È un po' di mezzo Ok, ok, ok. Il tempo è corto. Commenso la portazione di Caliban immediatamente. Soprani sono sui per creare un nuovo ponte. Cosa è? non ma di tre punti ragazzi quindi possiamo siamo Siamo, 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 siamo. Part of the Tyranid fleet had begun to approach the ship. Belial tasked us with a mission to find a way to reach Caliban's will through another impacted vessel. A crusade warship from the Black Templars called the Sanctum Imperator. This ship was sent out from Terra to carry the Emperor's holy will to the galaxy. Sta nevigando fuori, ragazzi. It's a disaster's ancient ship. Dr. Jingle. La visione è davvero distruttante, Brotha Librarian, e potrebbe essere un pollo omen per la nostra missione, ma il nostro desidero di superare sarà così forte come l'escalante. Tu devi identificare la locazione che hai visto nella memoria di Brotha Magon. Per questo, metti un Orga Primus nella console principale di un Strategeum. Lascia l'Hate guidare i vostri strumenti. Vediamo un po' se ce ne abbiamo qualche arma in più, ragazzi. Madonna mia, con questo che c'è? Con queste le diamo giù eh? Ohhohohohoho... Allora vediamo un po'... No. Poi che ci sono un po' di qua. No, non è stato un po' di qua. Questo è un po' di qua. Poi bene. Poi bene cosa si trova. Wow, wow. L'amma, c'è. Come si che fai da niente? Noi che fai da niente. Non l'anxiety. C'è l'intenzione. Non l'intenzione. Non l'intenzione. Non l'intenzione. Non l'antenzione. Non l'antenzione. Non l'antenzione. Non l'antenzione. Non l'antenzione. What are these Xenonfongs? They do not look like any we have exterminated previously. They do not look like any we have existing previously. I cannot say. As soon as the season becomes... La situazione è sotto controllo. Bisogna un'analisi di questi creature. Ci sono morti come gli altri. Non lo so, non lo so. E' brutto il ragazzi. Mettere un'altra cosa che ci sono. Non ci sono un'altra cosa che ci sono. Perchè, non ci sono un'altra cosa. Grazie a tutti. 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 No. 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 6 6 6 7 8 9 8 9 10 10 10 10 11 11 Il risultato! Il risultato di prevale! Missile! Sbloca, sbloca, sbloca! Sbloca, sbloca! Sbloca, sbloca! Luchaste! Luchaste! Sbloca! SIDES TRAIN IN SIGHT RUN 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 BELLIAL DIZARO TO CHEJAMO RUN 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 Grazie a tutti.